Ecco, io sono venuto perché vorrei appunto catalizzare la vostra attenzione su questa diapositiva detto con vecchi termini, adesso si dice slide. Allora, questo è il nostro gruppo, il team Brain Flow. Ecco, secondo me è molto importante eseguire questo tipo di trattamento in un vero team. Il team deve avere un neurologo, deve avere degli ecografisti, psicografisti, deve avere un radiologo interventista, un chirurgo vascolare, deve essere veramente un team multidisciplinare. Adesso noi abbiamo integrato il team con due ingegneri medici perché è estremamente importante l'analisi dei dati. Questo è dovuto al grande lavoro di Paolo Norati che insieme, posso dirlo, al professor Babiloni stanno appunto cercando di capire quello che poi noi combiniamo in sala operatoria e stanno cercando di mettere un po' posto tutti i dati che escono dalla sala. Allora, questo è il nostro team, poi magari ci torneremo. Questa è la clinica, mi ripeto ancora una volta e Fiorini di nuovo sorride perché lo dico tutte le volte, non è una pubblicità, è semplicemente un modo di dire che questa procedura se vuole essere presa in considerazione deve essere anche fatta in centri che possano appunto supportare il team in tutto e per tutto. Questo è un esempio della nostra struttura che fa vedere come è possibile appunto in pochi minuti, anzi in pochi secondi, passare direttamente, se c'è un puntatore sarebbe meglio, passare direttamente dall'angiografia all'attacco, alla risonanza anche perché spesso in alcuni casi abbiamo cominciato ad eseguire delle TAC con il catetere all'interno della giugolare perché ci sono dei pazienti che possono avere una compressione esterna e quindi magari è importante anche implementare lo studio. Ho finito, semplicemente dico che questo team ha cominciato anche a portare dei risultati clinici, abbiamo iniziato con un studio abbastanza semplice, poi siamo arrivati a uno studio sulla diagnostica CCSV anche se questo è uno studio del dottor Bavera, io ci entro veramente da dietro e questo invece è il nostro studio che sembra che abbia buonissime possibilità di essere pubblicato in una rivista molto importante e secondo me questo è importante perché 1200 pazienti sono tanti e soprattutto ci sono dati interessanti che possono a questo punto avvallare l'ipotesi che la CCSV esista e che sia una procedura efficace. Io ho concluso, grazie.